Dopo tre giorni di scambi, di commerci, di interazioni, di conferenze, possiamo dire che la BIT 2023 per la Puglia sia stato l'ennesimo successo. Senza falsa modestia, lo stand della Puglia è stato visitato, forse più di ogni altro, almeno della parte italiana che abbiamo qui intorno a noi. E davvero penso che si possa prevedere una stagione importante. Dobbiamo incrociare le dita e dobbiamo continuare a lavorare senza fermarci mai. Però le prospettive per il 2023 per la Puglia, anche con i prodotti presentati ieri, il bike, il wedding, la gastronomia, le web series, sono sostanzialmente un viatico per una stagione migliore. Viva la Puglia!